Continuiamo purtroppo ad avere dell'Unione Europea un'immagine totalmente falsata, perché identifichiamo il nobile sogno dell'Europa e della sua cultura con l'errendo incubo dell'odierna tecnocrazia nichilista e repressiva chiamata Unione Europea. Non soltanto l'Europa di Kant e di Platone non coincide con l'Unione Europea dei tecnocrati e degli hub finanziari e nichilisti, ma ne è la più perversa negazione quest'ultima, essendo l'Unione Europea la negazione e l'annichilimento dell'idea stessa di Europa. Ne troviamo qualche riscontro nelle parole di Jean-Claude Juncker, che vennero pronunziate all'indomani della vittoria di Siriza in Grecia e subito divennero oggetto di attenzione. Testualmente disse Juncker, uno dei principali euroinomani delle brume di Bruxelles, cito, dire che cambierà tutto perché ad Atene c'è un nuovo governo significa scambiare dei desideri per la realtà. Contro i trattati europei non c'è scelta democratica che tenga. Ripeto il passaggio decisivo di Juncker, contro i trattati europei non c'è scelta democratica che tenga. È un passaggio rivelativo in cui trova una propria manifestazione l'essenza stessa antidemocratica, repressiva, neoligarchica dell'Unione Europea. I trattati europei stanno al di sopra delle scelte democratiche nazionali e anzi servono a oltrepassarle e a metterle in archivio, rendendole impotenti e neutralizzandole de facto pur lasciandole sopravvivere dei ure. Ma quale che sia la scelta democratica del Paese in questione, essa è neutralizzata dai trattati europei che, come spiega limpidamente Juncker, non hanno alcuna possibile limitazione da parte della volontà democratica dei Paesi europei. Questo è non già il deficit di democrazia dell'Unione Europea, come talvolta troppo bonariamente si dice, è la negazione esplicita della democrazia su cui l'Unione Europea si fonda.